Abbiamo raccontato molte storie di rock star grandissime che però hanno avuto vite devastate dalla droga, dall'alcol, dalla follia, dalla solitudine, dalla disperazione. Questa volta raccontiamo la storia di una donna che è sposata da quasi 40 anni con lo stesso uomo. Lui è un batterista e lei è una bassista. Hanno dato vita a una delle band che ha cambiato la storia del rock negli ultimi 40 anni, i Tolkienettes. Raccontiamo la storia di Tina Weymouth.